Chi ha pensato che questi ridicoli costumi fossero una buona idea? Sei molto in ritardo, per fortuna Deimos non è ancora arrivata. Chiedo scusa, è la mia prima volta. Una nuova recluta? Ti do il benvenuto. Ci sono molte persone qui. Tutti condividono i nostri ideali. Bene. Siamo qui per valutare la direzione presa dalla setta dall'ultima riunione. È passato molto tempo. E da dove arrivano tutti? Vengono via terra e via mare. Ci riuniamo come una comunità. Qui non ci sono guerre, non esistono fazioni. Hai menzionato qualcuno. Deimos. Chi è? Imparerai a conoscerla molto presto. È la nostra guida. Di certo crede di esserlo, ma... No, è la nostra arma. Lei è difficile, ma svolge un ruolo importante per noi. Non invidio per nulla la sua posizione. Vado a parlare con gli altri. Grazie. Sì, sì. Prima che arrivi Deimos. Chissà se riuscirai a parlare. Dopo. Perché non mi ascolti? Continuo a dubitare. Tu. Ci serve una terza opinione. Perché dividere le risorse in cerca di una donna che non si trova? Se concentriamo gli sforzi, Atene sarà nostra. Dobbiamo eliminare i pericoli imminenti. Dobbiamo annientare pericli. Non senza la madre. Non siamo abbastanza forti senza di lei. Non farti sentire da Deimos. Piuttosto, dovremmo dare la caccia al padre. Sappiamo chi è la madre. Metterci a cercare il padre sarebbe uno spreco di risorse. Che dici? Dare la caccia alla madre della campionessa o a suo padre? A nessuno. Hai un'idea migliore? Il fratello. Alexios. Lui è già nostro. Dobbiamo pensare al futuro. No. Bisogna cercarlo. Ora, se volete scusarmi... Serviranno altre informazioni. Ora dobbiamo cercare il padre. Per ora è solo sangue, ma chissà. In futuro Deimos potrebbe pretendere la nostra carne. Su, forza! Fai la tua offerta! Non dobbiamo perdere di vista quello che la stirpe farà per noi. La stirpe? La madre, il padre, il fratello, i suoi consanguini. Ci servono tutti! Per usarli? Naturalmente questa informazione non è per Deimos. Sai quant'è irascibile. Ci farebbe pentire di averlo pensato. Non mi sfuggirà nemmeno una parola. Bene. E nessuno deve sapere che stiamo per catturare sua madre. Cosa ne faremo di lei? Fossi in te e abbasserei la voce. Sappi solo che verrebbe usata a dovere, a meno che non sia incontrollabile. Sai dove si trova? No, ma presto lo scopriremo, fidati. È il prossimo bersaglio della setta. Parlami di Deimos. Lei ci ha mostrato quello che sappiamo. Per la setta è uno strumento, un'arma. Non possiamo fidarci di qualcuno di così instabile per delle informazioni personali. Devo andare. Alle nostre ambizioni. Alle ambizioni. Sono qui. Cos'altro volete? Sì. Perché quella faccia? Sembra la maschera tragica di Melpomene. La tua famiglia è al sicuro. Viva ora. Solo lasciateli stare. Non fategli del male. Dipende da te. Ma so che ti comporterai bene. Sai cosa ne aspetta se non lo farai. Vi prego, non fatelo. Li uccideremo. Tua moglie. Tuo figlio. E allora quale sarà la tua ragione di vita? Non ne avrò. Esatto. Lettere da e per la setta. Per gli dèi. Hanno contatti in tutto il mondo greco. Sono una minaccia più grande di quanto pensassi. Grazie. 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 Datti un contegno, Malaka. Sei un cazzo di maiale pronto per il macello. Lo farò, giuro. Lo ucciderò. Lasciami andare. Ti piace guardare, eh? Non stare con le mani in mano. Dai una lezione a questo miserabile insolente. Lo merita davvero. Che cazzo importa? Si fa quello che dico io. Non sono ammesse domande. Non ce l'ho fatta. Ma non ho paura. Non più. Se non riesci a uccidere un cazzo di artista, cosa farai quando ti ordinerò di uccidere un arconte? Lo farò. Lo farò. Ucciderò Fidia. Io non voglio. Beh, devi volerlo, cazzo. Perché lo dico io. Prendi. No. Non ci penso neanche. Dai al Codardo un'altra possibilità. Di che ti ha sorriso, fortunato bastardo. Per stavolta la tua pelle è salva. Mi... avrebbe ucciso. È pazzo. Grazie. Staglia la larga. Lo farò. Ma ha ragione. Andrò dritto ad Atene e non fallirò. Mai più. Ucciderò Fidia. Trovova. Strana sensazione. Verso la piramide. È coperta di pietre. Simili a quella di Elpenne. Ci sia. Oh. 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 Sì, sì. Canta, parla di potere, chiama anche te, come fa con me. Sì, lo fa. Che cosa fai? Sei impazzito? Io... no. La grande guerriera non è nemmeno arrivata. Datti un contegno e tieni a freno la lingua, idiota. Mostra rispetto per la stirpe. E il penore è morto. Uno di voi è un traditore. Il Manufa adesso mi rivelerà chi. Ognuno di voi verrà messo alla prova. Tu sei il primo. Vai. Tu... Vai. 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 Grazie a tutti Cassandra Che sei tu? Vai Tu Vieni qui Il traditore è morto Ah, sei vivo Conoscono me La mia famiglia Vogliono uccidere mia madre Capisco È peggio di quanto pensassi E non è tutto Hanno un'arma Che tipo di arma? Una guerriera Più forte e feroce di qualunque altra Erodoto È mia sorella Torniamo ad Atene Atene Dobbiamo trovare mia madre I miei vestiti La lancia Certo La lancia La setta di Cosmos Chiama mia sorella Deimos Deimos Che sia Pericle Pericle è un uomo di pace È rimasto invischiato in questa guerra Come tutti noi Un generale che non vuole la guerra Improbabile Risparmiati i dubbi Lui vuole porre fine alla guerra Come tutti noi Dobbiamo avvertirlo di ogni possibile forza In grado di ostacolarlo Andiamo Ad Atene Danno la caccia alla mia famiglia A mia madre Devo trovarla Hai la lama di Leonida Comportati come lui Se Pericle non metterà fine a questa guerra Moriremo tutti Compresa tua madre Chi se ne importa della tua guerra La setta vuole sterminare la mia famiglia Hai un dovere verso il mondo greco Entrambi ce l'abbiamo Pericle deve essere avvertito È mia madre Che cosa dovrei fare? Se c'è un luogo dove troveremo informazioni su tua madre E ad Atene Come? Pericle si circonda Delle menti più brillanti di Atene E quindi del mondo intero Ad Atene potrai compiere il tuo dovere Verso la tua famiglia Ma prima di andare Dobbiamo incontrarci al leone di Leonida Alle Termopili Leonida? Perché? C'è una cosa che devo scoprire Potrebbe aiutarci a sconfiggere la setta E a salvare tua madre Hai dimostrato che posso fidarmi di te Ma facciamo in fretta Prima le Termopili Poi andremo ad Atene Farò in modo che ogni singolo membro della setta muoia per... Posso aiutarti con qualcosa? In uno dei miei campi cresce mandragora selvatica A volte una strega la raccoglie A me non serve Perciò non mi dà alcun fastidio Cioè non è quello che mi dà fastidio Allora qual è il problema? Quando raccoglie la mandragora La strega si mette a ballare E... beh... Credo che il termine giusto sia provocante Quando c'è lei i braccianti smettono di lavorare E anche mio marito È un problema Ma non posso ucciderla perché balla No Voglio solo sbarazzarmi della mandragora Prima che mio marito si offra di consegnargliela E mi pagherai per la consegna a lei Hai capito al volo Lo farai? D'accordo Ci sto Sono in debito Ora devo andare Consegna per te Da una contadina Ah sì Mi chiedevo quando sarebbe arrivato Tieni Ti spetta Non è Grazie.